Nuova aggressione alla CTV alle fondamente 9 con un marinaio picchiato dal passeggero rimasto a terra da Murano e che dopo aver preso il vaporetto successivo, sempre della linea 3 dopo mezz'ora di attesa, ha dato libero sfogo alla rabbia per essere rimasto a terra a causa del sovraffollamento, riuscendo a raggiungere il marinaio in sosta nella saletta utilizzata dal personale CTV. L'aggressione colpendo al volto ieri sera il povero marinaio, un ragazzo di 27 anni, preso decisamente alla sprovvista dal passeggero furioso. Il marinaio è stato subito soccorso dai colleghi. L'aggressione dopo lo scontro di ieri pomeriggio tra due vaporetti al ponte delle Guglie, quando una turista è rimasta ferita. Tratto del canale, quest'ultimo, dove la navigazione è diventata molto difficile perché gli spazi di manovra risultano risicati, a causa del traffico acqua diventato particolarmente sostenuto, specie al mattino. Grazie. Grazie.